Salve ragazzi, si è conclusa questa qualifica di Monaco, come avevo previsto, io avevo visto Alonso molto vicino a Verstappen, in effetti Alonso e Leclerc sono stati tutto il tempo, sia in Q1 che in Q2 molto vicini a Verstappen, poi Sainz è un po' allatitato, si è riscattato ma è il quinto posto, è il solito suo quinto posto, mi aspettavo di più da Hamilton al Russell, visto le ultime modifiche alla monoposto ma niente di che, il resto è dato tutto per scontato ma Verstappen farà sempre la pole ormai vincerà, domani se parte così stacca tutti ragazzi, comunque come è andata la pole? La pole è andata che Q1 e Q2 e Q3 con Verstappen sempre primo, anche se in Q1 e Q2 se la sono un po' giocata, soprattutto il Q2 molto vicini, tutti entro 10 posizioni entro 3 decimi e poi in Q3 quando speravamo nella pole position di un Alonso fenomenale, anche Leclerc ci aveva fatto sperare un po', gli altri proprio esclusi, niente, è spuntato, boom, la zampata all'ultimo giro di Verstappen che l'ha messa là davanti, perché c'è Perz in ultima posizione? Perz in ultima posizione perché al primo turno di qualifiche, cioè il Q1, in Q1 è scivolato con la pancia, con la macchina lateralmente e con la pancia sinistra, la parte sinistra, e la gomma laterale, gomma posteriore sinistra ha dato una grande botta sul muro, ha distrutto gomma e pancia e si è fermato e parte ultimo domani, quindi 1 fuori dai giochi, non credo potrà salire più di tanto perché questa gara, questa pista è difficile superare qui e poi vediamo i distacchi, alla fine in 5 decimi, 8 posizioni, nel Q2 è stato più combattuto, però ragazzi Verstappen in scioltezza ha fatto questa pole position e non ce n'è per nessuno, domani spero non sia una gara noiosa, sarebbe bellissima la pioggia qui, qui in questa gara sarebbe bellissima la pioggia, ma non ce n'è per nessuno quest'anno ragazzi, proprio in scioltezza ha comandato tutti e tre i Q, Q1, Q2, Q3, Q3 ci ha fatto sperare e ha dato la zampata all'ultimo, gli altri, Alonso, Leclerc combattivi, ma si sentiva che c'era il sentore che la Red Bull l'avrebbe spuntata, le Mercedes non hanno fatto niente di che deludenti è andata così ragazzi, speriamo per la gara di domani che sia almeno una gara vincente e non noiosa questa è la classifica finale, commentate il vostro, io avevo previsto già nel verso il Q2, avevo previsto Verstappen, Alonso, Leclerc perché quello era il sentore, era Alonso un po' più vicino a Verstappen, il manico ragazzi, e Leclerc ha la macchina che ha, anche avesse solo l'Aston Martin, chissà, chissà, non dico con la Red Bull, con la Red Bull farebbe qualcosa alla Senna, Senna è imbattibile ma Monaco con una Red Bull su Leclerc farebbe qualcosa di fenomenale, ma sto sognando, è andata così, scrivete cosa ne pensate voi nei commenti di questa qualifica e soprattutto della gara di domani, Perz recupererà ma chissà, ciao ragazzi!